Una vera e propria discarica a cielo aperto, quella scoperta dai volontari sabato scorso in un tratto della provinciale della Val d'Ambra. Protagonisti sono stati i membri dell'Associazione Irriducibili Liberazione Animale che hanno effettuato una raccolta di questi rifiuti abbandonati. La raccolta è stata effettuata da Bucine in direzione Ambra lungo la provinciale 40, tanti rifiuti raccolti dai balzi a fianco della carreggiata. Non è la prima volta che questa zona viene ripulita, ma ogni volta purtroppo è così. Questo, come spiega il Presidente Alessandro Tornai, è un tratto che avevamo già pulito altre volte, ma che puntualmente, dopo qualche mese, ritorna come prima. In poche centinaia di metri abbiamo raccolto diversi sacchi di spazzatura. Ci domandiamo, ma è così difficile rispettare l'ambiente? Evidentemente sì, risponde il Presidente, perché appare alquanto semplice aprire il finestrino e buttare la roba fuori dall'auto. Questo il commento amaro dei volontari dell'Associazione.